benvenuti in questa guida top 7 avvitatori di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo bressanon 4v ricchi accessori viene fornito con 11 pezzi diversi di driver il cui materiale s2 adatto per varie operazioni su prodotto vediamo la nostra valutazione qualità generale davvero eccezionale 4 stelle per l'offerta del momento 5 stelle per le caratteristiche sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 78 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo bosch professional due opzioni di avvio per iniziare spingere il dispositivo verso il materiale o premere il pulsante di avvio facile da maneggiare un freno ecco cosa pensiamo 5 stelle nella qualità generale nell'offerta assegniamo 3 stelle con una straordinaria funzionalità con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il nostro punteggio generale è di 76 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo gold si avvitatore fornitura one stop il mandrino ha una dispositivo di aspirazione magnetico fornisce un cambio facile e veloce delle punte del cacciavite vediamo la nostra valutazione una qualità generale discreta ottima offerta online per le funzionalità raggiunge 4 stelle sommariamente ottimo il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare ori a cacciavite 28 in uno cacciavite elettrico ori a kit di strumenti di riparazione portatili include 24 punte speciali di precisione un cacciavite vediamo il nostro parere un eccezionale qualità generale favorevole l'offerta per le funzionalità raggiunge 3 stelle straordinario il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 90 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo cacciavite elettrico coppia massima 6 newton metro e mandrino a cambio rapido la coppia massima fino a 6.0 n m per un funzionamento senza sforzo il mandrino vediamo la nostra opinione la qualità generale raggiunge 4 stelle favorevole l'offerta con una soddisfacente funzionalità straordinario il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 91 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo hot o mini aspetto avanzato aspetto satinato in alluminio estremamente strutturato per un tocco delicato il design dell'aspetto grigio scuro ecco la nostra valutazione una qualità generale eccezionale 5 stelle per la promo sconto una funzionalità straordinaria con un rapporto qualità prezzo molto alto il nostro punteggio generale è di 90 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica cacciavite elettrico trasmissione è l'avvitatore elettrico 4 v dotato di una trasmissione a tre livelli della coppia la coppia massima del manuale 10 newton metro e la coppia ecco il nostro parere una qualità generale eccezionale valutiamo l'offerta tre stelle con una straordinaria funzionalità eccezionale il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 91 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale